Qual è la domanda principale che io faccio in tutte le trasmissioni televisive, in tutte le situazioni in cui posso parlare agli italiani? La domanda è, riflettete bene, ma dovete assolutamente darci la maggioranza, non datela ai piccoli partiti, non datela soprattutto a quei piccoli partiti che costituiscono il centrino di Monti, Fini, Casini, che sottraggono voti ai moderati, hanno già fatto l'accordo con Bersani per collaborare insieme a loro, quindi quei voti lì sono sottratti ai moderati e vanno a favore della sinistra, ma anche se non andassero a favore di nessuno, perché il centrino non fa entrare i suoi rappresentanti in Parlamento, sono voti come quelli di cui abbiamo parlato poc'anzi di Giallino, che sono sottratti ai moderati e possono far vincere la sinistra.